Grazie Presidente. In questi giorni avevo preparato un intervento, un intervento soprattutto incentrato sulle sanzioni che sono state date appunto alla Russia e al problema ucraino. Poi, sentendo un po' anche gli interventi dei miei colleghi, mi sono fatto una domanda sull'intervento e ho pensato che non fosse il caso. Quindi vorrei semplicemente lanciare un messaggio. Mi chiedo fino a che il profitto, le leggi, le commerciali e l'economia saranno messe in primo piano rispetto ai diritti umani. Noi adesso ci ritroviamo un problema di sanzioni con uno Stato che ha violato i diritti umani. La Cina viola i diritti umani. Fino a che l'Unione europea deciderà di mettere costantemente al primo posto gli accordi commerciali e il profitto. Noi ci ritroveremo costantemente a davvero questo tipo di problematiche. Quindi noi possiamo stare qui a parlare di draft resolution, di tutela dei diritti, l'Assemblea incoraggia ai vari Paesi ha, ma in verità credo che sappiamo tutti che se bloccassimo gli accordi con quegli Stati che effettivamente violano i diritti umani, sicuramente raggiungeremmo degli scopi. Per fare questo però ci vuole coraggio e credo che per fare questo si deve vedere anche l'Europa in un modo diverso. Io penso anche un'altra cosa, che non dobbiamo stupirci se soprattutto le giovani generazioni vedono l'Europa semplicemente come un insieme di Stati uniti dalla semplice economia. Non è l'Europa solidale, non è l'Europa dei popoli, ma è l'Europa dei profitti. Fino a che avremo questo tipo di idea dell'Europa, l'Europa non si farà e affonderemo tutti insieme. Grazie.